Domanda. Seneca dice, estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Voi siete d'accordo? No, perché tutti, qualsiasi cosa facciano, concludono qualcosa. La vita stessa produce evoluzione. Domanda. Seneca dice, estremamente breve e travagliata è la vita di coloro che dimenticano il passato, trascurano il presente, temono il futuro. Giunti al momento estremo, tardi comprendono di essere stati occupati tanto tempo senza concludere nulla. Voi siete d'accordo? No, perché tutti, qualsiasi cosa facciano, concludono qualcosa. La vita stessa produce evoluzione.